Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove si segnalano code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In A1, code in uscita a Firenze in Pruneta, provenendo da Bologna. In direzione Nord, incidente al chilometro 338 tra Arezzo e Valdarno. Spostandoci sulla FIPILI, rallentamenti per un incidente destro risolto al chilometro 14 tra Monterupo Fiorentino e La Strassigna, in direzione Firenze. Sempre verso Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze-Scandicci. Ci sono code in uscita a La Strassigna e in uscita a Cascina, entrambe provenendo da Pisa. La statale 1 Aurelia è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni a Orbetello, al chilometro 143850, in provincia di Grosseto, per un incidente. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!